Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera allenatore con il Pordenone. Io non perderei altro tempo, signori, perché questa è la situazione in classifica. Siamo sesti a 32 punti e abbiamo ancora tante partite da giocare. Quindi, signori, mi raccomando, lasciate un bel mi piace al video, continuate a supportare questa serie. E noi, signori, un'ondata dei tifosi, il Pordenone è di moda. Infatti stiamo anche crescendo nei follower, signori. Stiamo premendo la mano, avanziamo per questa partita contro il Cosenza. Se non ho visto male, ho visto benissimo. Visto che la scorsa partita c'è stato il nostro nuovo acquisto che ha fatto abbastanza pietà, oggi lo riproviamo. Perché non ne abbiamo abbastanza, devo dire. Allora, in centro campo, Brescianini. Sì, dai, titolare Brescianini. Gavazzi ce lo portiamo al posto di Rossetti. Eccolo qua, aie. È al posto di Buttitz. E poi io, sinceramente, metterei anche Dio. Però vado anche a cambiare le maglie, perché se non ricordo male, avevo avuto già dei problemi. Oh, in bianco. In bianco, perfetto. Signori, ora possiamo andare in campo. Sempre sul pezzo. E ovviamente, forza. Pordenone. Andre Anderson. Aie. Dio. Alla, che controllo difficoltoso Dio. Entra in aria. Strattonatissimissimo proprio. Vai Fischer. Me la metti bene ed è fatta. Gol. 1-0. No. E che ci siamo ancora. Zanon. Ho capito. Mamma mia, come abbiamo verticalizzato benissimo. Dio, che brutta palla. Andre Anderson. Dio. Occhio ad Aie. Te prego. Sì, ma Dio gliela devi da bene, però, eh. Cioè, tre passaggi su tre sbagliatissimi. Sbagliatissimi. Mamma calò. Mamma calò. Attenzione perché Aie è partito. L'è partì. L'è partì. Maremma. Che intervento, ragazzi. Guarda questa palla. Dai che ripartiamo bene. Andre Anderson. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Dai Aie. Ma non puoi tirare così. A parte che veramente speravo di dargli un pallone migliore. Ma che tiro è? Alla Balotelli. Primo tempo che si conclude qua, signori. Non troppo pericolosi. La copia Aie di O sarà per questo accento finale. Non funziona benissimo. Un tiro abbiamo dato. Che è quello che avete visto con Aie. Si può fare decisamente meglio. Anzi, si deve fare decisamente meglio. Sì. E la Peppa che sberla di O. Che sberlona che ha tirato. Si doveva far meglio. Cavolo. Adesso le occasioni iniziano ad essere molto importanti. Occhio questa palla per Andre Anderson. Perché può andare da solo. C'è il taglio adesso di Dio. Andre Anderson la devi dare bene sta palla però. La devi dare bene sta palla, Andre. Cioè, veramente. E' già la seconda che mi sbagli così. Quindi via dalle balle. No. Allora, mettiamo il tremo. Punizione importante. Occhio a Balouli. Mamma Perizan. E al 67esimo Perizan fa il suo primo intervento. Ed è un intervento incredibile. Che portiere Perizan. Aie, ti prego Aie. Ti prego Aie cosa sei andato a riprendere. Signori. C'è l'1-0 del Pordenone. Con il primo gol. Di Aie. E' tutto suo questo. E' tutto suo. Va a recuperare il pallone. E batte Saracco. Dormita del difessore del Cosenza. Finalmente ci regalano qualcosa anche gli avversari. Qua bravissimo Aie a crederci. Il numero 5 male male nella gestione. E poi il piazzato destro di Aie. Imparabile. Sì. Si tremo. Uff. E chiudiamo così, signori. Con un'occasione per noi. Davvero una grande partita. Davvero una grande partita. Ci portiamo a casa i tre punticini. Che sono la cosa fondamentale. Non è importante segnare tanto, poco. L'importante è portarsi a casa i tre punti. E oggi abbiamo stradominato. Un'occasione per i nostri avversari. Grande parata di Parisan. Bene, bene. Partiamo alla grandissima. Iniziamo questo episodio davvero alla grandissima. Prossima partita ce l'abbiamo contro la Vicenza. Io continuerei con questo 4-3-1-2 magari. Che contro le squadre un pochettino più basso in classifica di noi può far bene. Facciamo giocare Passador. Dai che Parisan non è in forma. Magliette. A magliette come siamo messi. Direi bene. Signori, ci andiamo a giocare in questa partita. Chiaramente contro il Vicenza. Sempre sul pezzo. E forza Pordenone. Andrea Anderson. Buttic. Mamma mia. Sfonda tutto Buttic. Mamma mia. L'hai visto? Ma l'hai visto bene anche? Dio. 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 Dai su Padella. Dai su Padella. Arca miseria. Avevo fatto un lancio clamorosamente, incredibilmente, fantasticamente, bellissimamente, bellissimo. Qualcuno ci vada. da Passador. Cosa sta succedendo? Via sta palla. Un po' di rischio. Ma ci sta. Calò. Sto colo è tuo, Calò. Ho perso il tempo. Occhio a Annalini. La mette in mezzo. E sta buono. Non ci arriva nessuno. Vai Fischer One. Mettila bene. Dove c'è Buto? Arca miseria. Dai che ci siamo ancora noi. E bravi. Dai. Buttic. L'hai fatto? No. Che pordenone ancora. Bravi tutti qua a gestire. Ma questo è tiki-taka comunque, ragazzi. Ma questo è tiki-taka. Io ve l'avevo promesso. Mamma mia che palla ha recuperato Calò, ragazzi. L'ha fatto. Signori, l'ha fatto. Vabbè, io mi devo comprare la maglietta di Dio. Ma io mi devo comprare la maglietta di Dio. Ma per forza, dai. Ma per forza. Ma che gol ha fatto? Ma poi perché hai cambiato il colore della mia webcam? Ho un colore più aranciato. Non lo so. È tutta colpa di Dio. 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 Ma grandissimo Calò. Grandissimo Calò che si va a recuperare un pallone. Poi guardate qua. Controllo il mancino a giro. Ma cosa gli dobbiamo dire? Ma cosa gli dobbiamo dire? Ma che gol ha fatto? Nulla da fare per Grandi. Che tra l'altro con Grandi mi ci sono allenato io. Quando eravamo più giovani abbiamo giocato insieme. Fallonetto. Allora, fuori Butic. Dentro Sekli che ogni volta che entra molto... Oddio, era già munito Andre Adderson. No, aspettate allora. No, no, no. Non faccio entrare... Non faccio entrare Sekli. Non faccio entrare Sekli. L'ha già fatto il cambio, vero? Non so se l'ha già fatto il cambio, ma... Allora, io faccio entrare Ciurria proprio al posto di Sekli. Eh, Sekli me lo mette come cambio. Eh, mi dispiace, ragazzi. Ti prego, dimmi che è fuori gioco. Mamma mia, quanto godicchio. Che lungo. È scarso, per fortuna va. Eh, poteva esserci fatalissima, eh. Poteva esserci fatalissima. Ok. Passa, 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 passa. No! L'ho fatto uscire un pelo in ritardo, Passador. Peccato per questo filtrante. Non sono riuscito a fermarlo. E Passador l'ho fatto uscire un pelo in ritardo. Vedete? È rimasto fermo per un po'. Vabbè, l'uscita non è stata un gran che, perché alla fine ce l'ha arrivata. Peccato, ragazzi. Eh, in dieci stiamo faticando. Trova il compagno in ottima posizione. Porca la miseriazza. Maciurria, era un controllo facilissimo. Ho premuto per un attimo R1, perché volevo farlo più rapido. E gli è partito questo controllo orribile. Peccato, ragazzi. Peccato. Pareggio che ci può anche stare per le occasioni che si sono create. Però, per come si erano messe le cose, ce lo potevamo portare a casa, questo... Ce la potevamo portare a casa, questa vittoria. Rimaniamo lì, comunque. Rimaniamo lì. Uh, la spalla adesso! Prima in classifica. Mi ricordo, tra l'altro, che... Vabbè, adesso... Trattativa Fischer. Il Vicenza ci ha fatto una... Ma cosa vuoi Fischerare? Ma cosa vuoi Fischerare? Fine trattative. Ma Fischer non si muove proprio. Dicevo, mi ricordo che quando eravamo un pochettino più in difficoltà contro la spalla, non avevamo fatto una cattiva partita, devo dire, eh? Andiamo in campo così, signori, dunque. Sempre sul pezzo. E ovviamente, forza! Por den one! Sì, sì. Sì. Sì! Aiii! Cavolo, ma cadi per terra che quelli lì ti fischi a rigore, mannaia! Quel contatto lì c'è stato tutto, ragazzi, eh? Io pensavo... Sinceramente me lo fischiasse. Però a ieri è rimasto in piedi e poi ha perso completamente il pallone. Sì? Ma che palla gli ha dato Errington? Ma no! Ma sto Salamone qua! Porca miseria! Ma era una palla fantasticamente! E daie! Io non vivo senza calò, comunque. Ti prego. Ma che sta succedendo? A volte c'è una confusione clamorosa, però, eh? Gente che non va sul pallone. Bravo, Veccio! Passaggi che non dico di fare. A volte c'è un po' di confusione. Sono sincero! Oh mio Dio! Che rischio qua! Eh sì! Che rischio, che rischio, che rischio! Prima occasione della spalla! Eh no! Ma no! Ma no! Rosso! Stavo tenendo premuto R1, X, ragazzi. Ha fatto fallo dal rigore, sì. Appena l'ho visto, ho detto me lo fischia. Eh, ma sì, è rigore netto. È rigore netto. Ma è la prima volta, incline L, è vero, prima del tiro per scegliere la direzione in cui spostarti. Qua è il tiratore esterno, da, 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 da. Dai, va di qua. Va di qua, Murgione! Ma centrale! Ma centrale, Murgia! Dove sono le palle? Dai, 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 dai. Ma Salamon non può andare più veloce di ayer, ragazzi. Oggettivamente. Oggettivamente. Non può. Il pallone era buono. Era più che buono. Oh. Oh! Oh! Ma allora è rigore! Ma allora è rigorissimo, ragazzi! Ma allora è rigorissimo! Ma è rigorissimo? Ma mi ha steccato Salamon? Ma è rigorissimo, ragazzi. Rigorissimo. Ma è rigorissimo. Cioè, proprio, non stiamo neanche a discutere. Ma no, non puoi fischia... Allora, signori. Andiamo con due punte, ovviamente. Andiamo ovviamente con due punte, perché... Aie contro Salamon lì è... Salamon gli sta mangiando in testa. Bisogna essere sinceri. Fuori Tremolada, dentro Dio. Ti prego! Mannaggia, ragazzi! È incredibile. Sto Salamon qui è fantastico. Cioè, è fantastico. Ma quanto è forte, ragazzi. È fortissimo. Io lo vado a comprare. Così non me lo trovo più contro. Bellissima la parata, eh! Beh, ci stava, ci stava, ci stava. Buono questo intervento del portiere della spalla, ma buono anche questo tentativo da parte del Magno. Ci siamo ancora. Falasco. Harrington. Col mancino a giro, palla deviata e Tomovic la gestisce male. Perché la tira addosso ad Aie. Bella. Oh mio Dio! È un segno, ragazzi. È un segno. Che forse posso riprenderla. Che si è mangiato Paloschi. Aie! Dio! Occhio a Harrington. Mamma mia, oggi che partitazza di Harrington. Ma no! Eh, raga, più di così non posso fare. Sinceramente più di così non posso fare. Cioè, più di così cosa devo fare? Guardate come me non è andato bene. Bravo Beriscia. Eh, che bella! No! Vabbè, ragazzi. Oh! Veramente, veramente... Ma mi sembra esattamente la stessa partita dell'andata questa. Dove non meritavamo assolutamente il risultato che ci stava capitando. Oh mio Dio, calcio di punizione. E chi lo sa battere? Non lo so. E chi lo sa battere? Io no, di certo. Ci proviamo. Ma calò? Ma li battitei i calci di punizione? Calò! Non so vivere senza di te, calò! Non so vivere senza di te, calò! Non so vivere senza di te, calò! Dove c'erano i due giocatori più bassi, signore? Dove c'erano i due giocatori più bassi? Non so vivere senza di te, calò! Pareggio meritatissimo del Pordenone! A tempo strascaduto, l'abbiamo ladrata clamorosamente, ma non mi interessa! Non mi interessa nulla! Giusto! Giusto! Bellino! Beh, ragazzi, dovevamo vincerla, non pareggiarla! Con quella punizione dovevamo vincerla! Mi spiace perché comunque vittoria! Pareggio, pareggio! E caliamo! E caliamo! Eh, d'altronde... La Serie B è così! Siamo sempre tutti lì! Ultima partita di questo episodio contro la Salernitana! Anche se comunque in alcune situazioni, ragazzi, questo albero di Natale io ho ancora... Però c'è Tremolada che è super in forma! Eh, niente! Saltata la gara dell'ex di Andre Anderson! Anche Aie è molto in forma, si può dire? Si può dire molto in forma? Non lo so, Dio, lo facciamo subentrare... Brescianini, Brescianini al posto del rosso! Facciamo riposare anche Fischer, va! Sta a fare delle parete Fischer-Price! Pazzesco! Andiamo in campo così, signori! Sempre sul pezzo, le magliette! Ehi! 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 Volevi fregarmi, eh! Volevi fregarmi! Sei sincero, volevi fregarmi! Andiamo in campo così, signori! Sempre sul pezzo! E forza Pordenone! Bellissima! Quest'acca miseria! Ok! Mi hanno rischiato un po', ma... Fa lo stesso! Vai, Barison! Partite! Mamma mia, Bari! Pia su tutto, pia su tutto! Senza paura! Butto! Eh, non è male! Ecco, adesso ci si mette Ghiomber! Prima Salamone, adesso Ghiomber! Naya! Calò! Avanzi te! Oh, che brutta palla che mi hai perso! Arca miseria! Attenzione! Attenzione! Madre mia! L'ho vista dentro! L'ho vista dentro! Non voglio neanche rivederla! Perché la rivedrai dentro! Eh, ragazzi! Oh mio Dio, Parison! Ha preso anche questa! Finisce con il primo tempo! È molto meglio la Salernitana! Infatti faccio subito un cambio, perché... Se è tremolata, se è in forma... Insomma... Eh... Se questo è il tuo essere in forma... Ma no, ma io mi ero porto dietro a Andre Anderson! Eh, niente! Dai, mo! Tira! La tirata! La tirata, ma la parata mi cai! Dai! Ti prego, Tremo! Ma no! Guarda! Mannaggia, neanche un... Angolo! Ancora Ye! Ancora Ye che la recupera! Arca miseria, Brescia! Regà, un tempo a testa stiamo facendo! Un tempo a testa! Tremo! Butto! Smangiucchiata, smangiucchiata, smangiucchiata! Allora, come siamo messi qui? A Ye è un po' stanchino! Torniamo agli... Gni, 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 gni... Al... Come si dice? Come giocavamo un tempo con... Dio e... E Buttitz! Al... Vabbè, non me lo ricordo! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Sì Sì È buonissimo Buttic Buttic Guardate il passaggiaggio Bravissimo poi Buttic Sì Sì e poi sì 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 e poi sì Mamma mia fallo andare Fallo andare Ma chiudimi sto match Dio è tutta colpa di dio mamma mia ha segnato di nuovo e ha chiuso la partita l'ho fatto andare l'ho fatto andare in profondità gol e assist per Butiz guardate qui che triangolation nulla da fare per Gionber questa volta bravissimi ragazzi quando prendiamo il via finisce qui signori come chiudere in maniera incredibilmente perfetta un episodio molto divertente molto molto divertente un tempo a testa devo dire nel primo tempo molto bene la salernitana nel secondo tempo siamo venuti fuori noi ragazzi eh sì assolutamente Sesti a 40 punti e mi piace la cosa signori io vi inviterei a lasciare un bel mi piace per supportare al massimo questa serie abbiamo il Pisa apriremo il prossimo episodio con il Pisa prima però volevo andare a cercare Salamone perché io non ricordo età o cose del zenere però ha fatto una parità strepitosa ragazzi a dir poco 30 anni 69 Salamone eh no eh no fosse tanto 25 26 anni con almeno un 72 71 71 72 ci stava invece porca miseria peccato eh per la serie A forse ci poteva stare anche se non credo che andremo in serie A il primo anno ragazzi oddio siamo a 9 punti non lo so non lo so c'è ancora un tot di partite dovremmo giocarcela il prossimo episodio è tanto importante perché abbiamo anche il flusione signori noi ci vediamo al prossimo video lasciate un mi piace un commento un consiglio alla prossima ciao a tutti ragazzi